Siamo con Samantha Ostarello, nuovo acquisto della Magnolia Campobasso che disputerà il prossimo campionato di Serie A1 di basket femminile. Ciao Samantha, benvenuti a Magnolia Campobasso. Grazie. Allora, intanto volevo chiederti come mai hai deciso di dare l'ok per questa tua esperienza in Molise con la squadra di coach Mimmo Sabatelli? E' una grande opportunità far parte di una squadra competitiva in A1. Ecco, questa per te è la terza esperienza in A1 per quanto riguarda l'Italia, il basket femminile di Serie A1. Hai avuto già due esperienze precedentemente. Per te, la terza esperienza in A1 dopo Vigarano e San Martino dei Lupari. Sì, questa è la mia terza esperienza in A1, non vedo l'ora. Ecco, tu hai giocato in passato anche con l'Ital Basket, con la nazionale italiana. Dunque, il tuo sogno è di giocare di nuovo con la squadra nazionale, con l'Ital Basket. Naturalmente, questo è l'obiettivo finale, giocare con la maglia azzurra. Mi è dispiaciuto perdere la convocazione di agosto a causa del Covid-19. Spero in autunno di essere convocata. Ecco, durante le partite della Magnolia a Campobasso, di solito c'è tanta gente. During the games in Campobasso, there are many supporters. Sì, non vedo l'ora di incontrare i tifosi della Magnolia. Ne hanno parlato bene di loro e della grande energia che trasmettono durante le partite. Ecco, so che tu, diciamo, sei una grande fan di Kevin Garnett. Sì, da piccola lo seguivo molto. Il mio gioco, credo, si rifaccia un po' al suo quando giocava con i Minnesota Timberwolves. Bene, allora, Samantha, ti aspettiamo nelle prossime settimane a Campobasso. Intanto ti faccio un grosso in bocca al lupo. See you soon and buona fortuna. Good luck. Ci vediamo presto. Bene, mi piace questa frase finale in italiano. Sì. See you soon, allora. See you soon. Ok, thank you. Thank you very much, thank you very much, Samantha.